bello a tutti altri miei gamers io sono joestar e benvenuti in questo mio nuovo video quest'oggi siamo su farcry primal ok togliamo questo lupo ok mi sono trasportato a questo villaggio questo insediamento vedo che dobbiamo prendere questo forte gran forte del taruo e poi possiamo andare a fare la terra degli utam ora non so se possiamo andare direttamente qui o può fare questo prima dobbiamo fare questo vediamo subito un po come arrivarci andiamo da qui ok cosa c'è qua nulla non c'è nulla ok penso che siamo già arrivati anche già siamo nelle terre di utam potremmo stare attenti se uno spunta qualcuno ci faccia l'arca attacca sorpresa ok sono un nemico bocca cala ce l'ho dietro è fatta sono marzo non so ninja io ne prendo un po' di legna così mamma mia mamma mia quanto cattiva dai dai te 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 tee te 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 oh te 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 ey Cioè aveva mellone delle caverne, no? Sono sbaglio? Sì? Sì? Non mi va per nulla di tornare là giù. Mi dispiace ma fino alla giù non va. Dai! Ok. Siamo arrivati, 100 metri. Ho pensato che già da qui. Mmmmm. Mmmmm. Mmmmmmm. Voi stai un'umiliazione. Ecco. Voi un faiato. ok questo il gran forte di darwin dovrebbe essere tipo un accampamento e io pensavo che fosse invece una missione caro roberto qui stiamo quante scureggi sta mollando quello che è tutto verde qualcuno lo dobbiamo uccidere perché stavo l'animale sta dietro al bancone non vi faccio così piano piano lui non mi vede ok e ok aspetta che chiudo la finestra perché sto piovendo il civile ha trovato i cadaveri civile infame ok portate a uccidere quelli che chiamano i rinforzi e io faccio così e dovrebbe venire dovrebbe ucciderlo subito così dovrei liberarlo merda ce n'è un attimo di corno che male dovrebbe uscireggere no vaffanculo ma che male ma vaffanculo stronzo ok ho trovato l'altro corno mi sa che ci sono un par di nemici ma pochi pochi ok scusate che non sto parlando sto cercando di non morire uccidere tutti per l'appunto cercando di non morire non la vi che so arcieri ho gli uomini con la lancia posso avvicinare quanto voglio ma il problema arriva quando arrivano quelli con l'alcia quello non gli ho fatto niente di tanto ah perché lui è quello lì da poi sarà tipo il boss quanto stronzo è sto personaggio c'è lui che fa tiene le bombe russolenti e addosso a sé sempre attive così non ti può avvicinare ad attaccarlo stronzo 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 vabbè cura chi cazzo è dietro oh ma c'era ancora uno vivo chi cazzo sapeva chi cazzo è di merda dai scappate ok ho bisogno di fuoco non devo darmi fuoco io merda se dopo merda ok quello motore ultima freccia arendy che fai da arendy muori astardo porca troia sarebbe difficile perché erano tutti elite e sono arrivati tutti in massa tutti insieme sentaci loro volevi su Yuri Malshazar da Krawada Wajda Krawada 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 happy ho fatto bene ho fatto benissimo un ottimo prigioniero la mala erba vediamo cosa succederà ora chissà a e i macchina dai suoi tic rawa lanta non sembra come gli altri Udom però lui sembra più che riesca a ragionare ancora gli altri Udom sono proprio pazziti senza controllo da l'Udom si è unito ok vediamo un attimo perché dobbiamo parlare il primo non ce l'ha dato il nostro prigioniero Udom anche se un lavoratore uno schiavo come dire da 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 come va a vedere lui affogare allora ragazzi il video finisce qui spero che vi piaccia non ci vediamo in un prossimo video che salveremo da anche se vorrei dare la caccia a hull in modo assurdo però dobbiamo prima salvare da purello ok vabbè capito tutto quanto l'odio di guindia però può essere un'arma utile per dove c'è nuove armi questi sono strani dopo noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao